Amici Lazio e Lennon, bentornati frate dell'Olimpico, oggi siamo qui in un nuovo video, prima di iniziare vi invito subito di lasciare un bel like, iscrivetevi al canale e soprattutto attivate la campanella così da in maniera aggiornati ogni qualvolta che pubblico un video. Ragazzuoli, ci siamo, fatto un casino, ottavi di finale, abbiamo le nostre qualificate, ovviamente le prime due di ogni girone, qui abbiamo la pot 1, qui abbiamo la pot 2, noi ovviamente SS Lazio ci troviamo qua, sarà dura per noi, come per tutte le italiane rimaste, abbiamo la Juve, l'Atalanta, perché a parte la Juve che è nella pot 1 e che ha gli ottavi più semplici, tra virgolette, perché le squadre nella pot 2 che puoi incontrare sono molto più facili, diciamo, l'Atalanta e la Lazio hanno, sorteggeranno comunque, qualsiasi squadra prenderanno, sarà molto dura, soprattutto per noi. Ragazzuoli, un like, se questo video raggiunge 10 like entro lunedì vi porto la live reaction, cioè, sì, live reaction, dei pronosti, dei sorteggi in live, quelli reali, e stasera rimanete su Sintonizzati perché dovrebbero uscire i sorteggi di Europa League, sempre i miei pronosticati. Ragazzuoli, non perdiamoci in chiacchiere, iniziamo subito, ovviamente stessa nazionalità non si può avere e nemmeno stesso girone, quindi, insomma, poi le regole le sapete. Iniziamo a prendere dalla pot 1, miscoliamo, va, miscoliamo un po' come fanno i veri professionisti, prendiamo dalla pot 1, abbiamo il Paris Saint Germain della Francia, ovviamente gruppo H, e lo mettiamo qua da parte. Pot 1, pot 2, prendiamo, ragazzi, e ora vi racconto una storia, S.S. Lazio, Italia, gruppo F. Io ho visto due video che hanno già fatto gli altri due youtuber italiani dei sorteggi, e entrambi hanno sorteggiato il Paris Saint Germain con la Lazio. L'ho sorteggiato anche adesso, ce vi giuro, ragazzi, sembra fatto apposta, non è fatto apposta, è accaduto veramente. Ovviamente io mescolo, non le vedo, è perché sono tutti chiusi. Se capita pure nella realtà, ragazzuola, cioè, ci dovete fare una statua. Ne meschiamo un altro, quindi Lazio subito si apia in quel posto col Paris Saint Germain perché è durissimo, ragazzuola. Pot 1, abbiamo il Bayern Monaco, Germania, gruppo A. Andiamo di Pot 2, poi li chiamo Pot, ma non sono mica sicuro, però vabbè, fa figo. L'altro Borussia, Mönchengladbach, dice sempre Germania. Ah no, non può, perché stessa è una nazionalità, quindi il Mönchengladbach lo ributtiamo dentro e ne peschiamo un'altra. Molto se ricapita il Mönchengladbach, guarda, eh. Abbiamo, abbiamo, udite, udite, il Barcelona, Spagna, gruppo G, sembra più una P ma è una G, ve lo assicuro. E qui abbiamo Bayern Monaco, Barcellona, partita bellissima. Meno male che il Bayern Monaco non ci è capito a noi, ovviamente non è in realtà però. Sempre Pot 1, abbiamo Liverpool, Inghilterra, gruppo D, Pot 2. L'FC Porto, gruppo C Portogallo, quindi Liverpool Porto. Andiamo di Pot 1, abbiamo il Chelsea, Inghilterra, gruppo E. Mettiamo di qua, va, qua non c'entrano. Pot 2, Pot 2. Atletico Madrid, Spagna, gruppo A. Io non ho guardato i gruppi, però sì, sono tutti, ok, sì, possono stare. No, che faccio 2. Pot 1. Pot 1. Real Madrid, Spagna, gruppo B. Eccoci qua ragazzuoli. Vediamo chi si prende in Real Madrid. Oh. Eh sì, signori. La nostra cara vecchia, Atalanta, Italia, gruppo D. Quindi Atalanta, Real Madrid. Non mi ricordo se anche questa qualcuno la va già a pescare, io vado sempre nel 2. La va già a pescare l'Atalanta, Real Madrid, però di PSG Lazio sono sicuro perché veramente tutti l'hanno presa. Pot A. Manchester City, Inghilterra, gruppo C. Andiamo di Pot 2, Pot B. Vabbè, rimescoliamo che me ne sono usciti due. Manchester City. Eccolo qua. Borussia Mönchengladbach. Germania, gruppo B. Andiamo con la penultima. Ancora non uscita la Juve. Della Pot Manca la Juve e non mi ricordo chi. E il Borussia Dortmund. Il caro vecchio Borussia Dortmund. Germania, gruppo F. Il gruppo della Lazio. Andiamo di Pot 2. L'Italiano e manca solo la Juve della Pot 1. Andiamo Lipsia. Lipsia, Germania, gruppo H. Non può perché Borussia Dortmund già è Germania. Quindi per forza l'ultima rimasta di qua. Ovviamente, erano rimaste Mönchengladbach e questa. No, Mönchengladbach e Lipsia e questa. Andiamo un po'. Borussia Dortmund. Siviglia e Spagna. E Spagna. Mazzaghe. Poliglotta. E gruppo E. Quindi può batterse la gol Dortmund. Ultimo match. Ultima partita. Pot 1. Juventus, Italia, gruppo G. E di qua abbiamo Lipsia, Germania, gruppo H. Comunque io vorrei dire solo che dovete lasciare un like soltanto per questa grafica che ho creato. Per i bigliettini, fantastica. Potevo pure mettermi a stampare il nome, però era poi troppo professionale qua. Un po' di casareccio ci vuole, però è figata. Proprio forte. Ragazzuoli, mettiamo via queste grandi pot e andiamo a ricapitolare il tutto. Abbiamo Paris Saint-Germain, Lazio. È una partita. Poi abbiamo, non ce leggo, Bayern Monaco, Barcellona. Seconda partita. Poi abbiamo Liverpool-Porto. Altro match. Abbiamo Chelsea, Atletico di Madrid. Mettiamo qua. Poi abbiamo Atalanta. Ce leggo. Real Madrid. Poi troviamo il Mönchengladbach contro il Manchester City. Poi Siviglia-Borussia Dortmund. E per finire, Juve-Lipsia. Ragazzuoli, io ho rivisto, mi pare pura, alcuni italiani che la Juve è uscita con Lipsia, non vorrei dire. Manina magica. Ovviamente a noi se dovesse andare così, allora, io vi dico la mia, ci stanno come gironi, molto equilibrati, tra virgolette, a parte qualche italiana, perché noi col Paris Saint-Germain dovremmo fare una partita perfetta e il PSG dovremmo trovarlo in una giornata no. La Juventus, ma so persa, incontra l'Ipsia, che l'Ipsia è tosto, però la Juve ce la può fare e l'Atalanta becca il Real Madrid. E' dura, però se l'Atalanta è riuscita a battere il Liverpool, ovviamente in una giornata no della squadra inglese, può benissimo battere il Real Madrid. Secondo me se la possono battere. Tutte le altre, comunque, bene o male, sono in pari. Dortmund-Siviglia, Mönchengladbach-City, anche se appunto il City è un po' meglio del Gladbach. Madrid-Celsi, stiamo là. Barcellona-Bayerno di Monaco, una grande e bella partita. Ragazzuoli, questi sono i miei sorteggi. Fatemi sapere la vostra con un commento, fatemi sapere quali sono i vostri pronostici, chi pescheranno le italiane. Noi ci vediamo stasera, dopo mezzanotte, con la stessa cosa per l'Europa League. Se questo video raggiunge 10 like entro lunedì, vi porto la live reaction dei sorteggi degli ottavi di Champions, quelli veri, quelli reali. Ragazzuoli, noi ci vediamo, prossimo video, ci vediamo questo weekend, anzi ci vediamo stasera, poi ci vediamo in questo weekend, ovviamente col pre-partita di Venona Lazio. Sperando che il nostro semplice mi ha fatto tanto gioia. Ragazzuoli, like, iscrivetevi, commentate, sempre Forza Lazio e dagli che forse agli ottavi gli ha famo. Ciao, Ragazzuoli, sempre Forza Lazio. Ciao, Ragazzuoli, sempre Forza Lazio.